Le critiche in un'intervista rilasciata a TV Blog Ormai è chiaro, i figli di Albano e Romina non hanno grande stima di Barbara D'Urso. Dopo iari che sui social network ha addirittura augurato la morte alla conduttrice napoletana ecco arrivare l'attacco di Romina Junior quest'ultima è da poco tornata in TV, nel cast fisso di oggi è un altro giorno di Serena Bortone, in onda ogni giorno nel primo pomeriggio di Rai 1. In un'intervista rilasciata al sito TV Blog Romina Carrisi, quarto genita di Albano e Romina, ha ammesso che in futuro le piacerebbe continuare a fare televisione. Dopo gli inizi da attrice e poetessa la 34enne sogna di affermarsi sul piccolo schermo come presentatrice. E qui è partita la stoccata a Barbarella. Non andrei mai in dei contenitori che non mi appartengono e che non fanno emergere le parti migliori di me. Insomma dalla D'Urso non ci andrei mai. E in effetti Romina Carrisi non è mai stata protagonista del salotto di Barbara D'Urso a differenza dei suoi fratelli. Chris e Lehiari sono stati più volte ospiti di Carmelita e una volta sono stati addirittura inviati per il Festival di Sanremo. Anche Yasmin e Albano Junior, i ragazzi che Carrisi ha avuto dall'attuale compagna Loredana Leciso sono apparsi frequentemente a pomeriggio 5, domenica live e live non è la D'Urso. Mai Romina Junior, che ha deciso di seguire le orme della madre Romina Power. Quest'ultima, infatti, non ha mai accettato gli innumerevoli inviti di Barbara D'Urso. L'ex dottoressa Joe ha confidato di apprezzare molto la Power ma di non essere nelle sue grazie. So che le sto antipatica, l'ho invitata più volte, ha dichiarato in passato la D'Urso. L'ex dottoressa Joe ha confidato in passato la D'Urso L'ex dottoressa Joe ha confidato in passato la D'Urso. L'ex dottoressa Joe ha confidato in passato la D'Urso.